Ciao a tutti, in questo nuovo tutorial vi farò vedere come si fa questo braccialetto che è una tecnica che si chiama macramè, è tutto un insieme di nodi e questo braccialetto è un braccialetto dell'amicizia Allora, le cose per farlo sono 4 fili da 50 cm ho già fatto il nodo da 10 cm Dopo, le forbici delle forbici una penzetta d'ufficio o anche una molletta d'avvocato il cartoncino e basta Come iniziare questo braccialetto? Allora, questo braccialetto essendo che non ho niente da fare a casa ho detto che volevo fare questo video a mia mamma ho detto lei mi firma e io lo faccio ho detto va bene, dai, allora cominciamo Eccoci qua Allora, innanzitutto ho pensato i 4 fili accanto al cartoncino Allora, si prende il filo che si chiama filo porta nodi il primo sulla il primo sulla sinistra ha praticamente tutti i nodi quindi si fa così mi raccomando state molto 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 vicini a ogni nodo così e si fa però due volte quindi state molto vicini a questo nodino questo qui piccolo dopo fatti i due questo qua si mette da parte si prende il su successivo il successivo il prossimo si prende così 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 e così è un po' come il nodo per allacciarsi le scarpe giusto dovete sempre tenere tenerlo il filo porta nodi sopra sopra gli altri fili come vedete si è già formato ben tre nodi dopo si rifà per un'altra volta perché per ogni per ogni colore bisogna farlo due volte vai vai è giusto ecco dopo questo qua si mette da parte e si prende il successivo blu si fa così per un'altra volta e si porta e si porta qua vicino all'altro blu bisogna stare molto molto vicini o se no viene non viene tanto bello cioè viene bello però non è che sia così tanto carino dopo si rifà questa cosa per un'altra volta perché bisogna farlo sempre per due come l'ho già detto e ecco si è formato questo questi quattro nodi come questi qua e si fa così adesso si mettono da parte si mettono da parte i tre fili sulla destra questa è la destra questa è la destra e si prende questo qua e si mette qua ecco è questo adesso è diventato il filo portanodi si prende il blu ho sbagliato non hai sbagliato Sofì si è sbagliato perché non hai non l'hai tenuto sopra non ho tenuto sopra il blu e dovevo tenere sopra il blu no devi tenere sopra il verde sopra il verde in poche parole il nodo è questo magari la Sofì non riesce a farlo da vicino si incrocia il verde il filo portanodi si incrocia sopra il blu e si fa passare il blu nell'asola che si è creata in questa maniera come vedete adesso quando io andrò a tirare il blu è quello che va a formare il nodo uno e due dopo tiriamo bene e con questa filo successivo filo successivo faccio da vicino come ho bravissimo vedi ecco adesso si capisce bene si prende il blu non hai tenuto teso bene il verde vedi si è arricciato sopra non è complicato non è complicato è solamente che bisogna prenderci un po' sono io che sono un po' prenderci un po' la mano non capisco perché le altre ti sono venute tutte adesso hai difficoltà a fare questa così dai prova ancora adesso con questa che è il verde quindi punto croce questo si fa no punto croce il filo porta nodi il filo porta nodi dopo si prende l'altro verde questo esatto il filo porta nodi tienilo sempre in tensione che così non ti dimentichi vedi boh no no fatto bene adesso l'altro facciamo da vicino ecco vedi che è più semplice tenendo in tensione si è più semplice eccoci qua allora adesso il filo porta nodi è questo qua è il blu quindi si fa passare dalla destra dalla destra dalla sinistra dalla sinistra dalla sinistra dalla destra e si prende l'altro blu quindi si annoda si tira teso il filo porta nodi e si sta aderenti ai nodi anche sopra ecco dopo si fa un'altra volta ecco 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 beh teniamo il verde si fa la stessa cosa il colore del nodo praticamente verrà sempre del colore non del portafili ma bensì del filo che adoperiamo per annodare per cui in questo caso il portafili è blu noi stiamo adoperando il verde il nodo verrà fuori in verde dopo si rifà un'altra volta si tiene teso il portanodi comunque direi che a fare le riprese è più brava la sofia e si fa un'altra volta così dopo prendiamo l'altro verde a fare il tutorial è più bravo a lei perché io non mi trovo bene si prende l'altro verde e si tira un'altra volta dopo si rifà per un'altra volta e si tira eccoci qua adesso ne farà un altro piccolo pezzettino e dopo ci ritroveremo ciao eccoci qua allora ho quasi finito il mio braccialetto braccialetto è una amicizia adesso rifacciamo riprendiamo il filo portanodi da sinistra a destra in questo caso è il verde adesso lo facciamo facciamo un'altra volta così e lo tiriamo bene bene dopo ne facciamo un altro dopo lo mettiamo da parte e passiamo al successivo e lo tiriamo bene dopo un'altra volta forse ve l'ho già detto ma non me lo ricordo il filo portanodi deve stare sempre sotto cioè sopra al filo blu o al filo verde capita quale filo è adesso ne ho fatti due quindi lo mettiamo da parte e prendiamo l'altro quindi rifacciamo il nodo un'altra volta facciamo il nodo un'altra volta e lo rifacciamo e ho sbagliato perché il filo portanodi è sopra invece dovrebbe essere sotto il filo porta e ho sbagliato un'altra volta quindi lo rifacciamo un'altra volta adesso viene giusto adesso è giusto perché il filo porta nodi sotto e non più sopra è sopra agli altri fili bene ok che casino che fai soffi si infatti ok ecco qui ecco hai fatto due volte quasi ecco qui ho finito il mio braccialetto adesso la mia mamma mi farà vedere anche come si farà a chiudere perché io non ce la faccio basta fare un nodo basta fare un nodo faremo un nodo ovviamente cercando di portare il nodo vicino alla fine del bracciale ecco il cane che piange ecco qua il bracciale è finito adesso andremo con la nostra forbice a italiana perché noi avevamo fatto due fili uniti due fili uniti e andremo a pareggiare allora per una questione di semplicità nella chiusura del bracciale andremo ad eliminare due fili magari ne terremo uno azzurro e uno blu anche qua uno azzurro e uno blu dopo di che non ci resterà altro da fare che metterlo al braccio e chiuderlo e legarlo con un nodino vuoi dire qualcos'altro Sofì? ah ecco se per caso non vi fosse tanto chiaro la tecnica all'inizio tra i primi video che ho realizzato c'è proprio appunto un video il bracciale dell'amicizia è che questo mi pareva carino farlo fare alla Sofia visto che non gli passa più star qua a casa ho fatto mia mamma ha fatto questo questo braccialetto con la solita tecnica soltanto che è fatto con le pietre cioè con le pietre con le perline basta prossima volta prossima volta farò questo braccialetto che sarà un po' complicato per me forse non lo so basta ci sono scusate per il tavolo è tutto sporco ma vabbè è il tavolo della Sofia per forza è sporco di pittura è sporco un po' di tutto comunque facciamo vedere il cane no il cane resta là comunque niente ci vediamo ci vediamo nel prossimo video e ciao ci vediamo nel prossimo video dove realizzeremo questa non perdetevi d'animo se non riuscite all'inizio sì perché anche io faccio un casino ci vuole un po' di impegno e anche un po' di pazienza sì e basta ciao ciao